e niente quindi dunque Karim Benzema come tutti pensavano, come tutti comunque optavano, anche io ho optato da subito che Karim Benzema prendesse il pallone d'oro quest'anno, un pallone d'oro meritatissimo, sto vedendo adesso la premiazione qui al canale eventi, ma che dire, ero certo sicuro che Karim Benzema prendesse questo pallone d'oro dopo una grande contacampione, Champions League, un campionato grandioso e comunque se lo è meritato, se lo è meritato a tutti gli effetti, io adesso non so chi sia arrivato secondo, non ho visto bene, ho visto solamente con la premiazione di Karim Benzema che è stato chiamato l'anzini di Zidane a ricevere il premio e quindi a fare l'intervista, adesso stanno facendo l'intervista, questo fuori classe, fuori classe Real Madrid e qui ne abbiamo due di fuori classe, abbiamo l'anzini di Zidane che è un fuori classe immenso, proprio di quelli immensi, un talento, un genio incredibile, è un altro grande fuori classe, colador, Karim Benzema. Sorpresa di quest'anno è che non ci sia stato Messi tra i 20, dopo che il pluri premiato, pallone d'oro, Messi non c'è stato quest'anno, e Cristiano Ronaldo è arrivato solo al numero 20, quindi ecco diciamo che questo binomio Messi-Ronaldo sta un po' finendo, un po' le tasse è arrivata per tutti e due, a posto che Messi quest'anno comunque si sta riscattando e stia facendo una grande andata, scorso anno sono un po' in peropera e quindi ecco, sono rimasti indietro tutti e due, per la prima volta quest'anno sono proprio rimasti indietro tutti e due, anche Kylian Mbappé, credo che sia arrivato tra i primi tre o quattro, non vorrei sbagliarmi, meritatamente, anche lui è un grande giuratore, ma Karim Benzema quest'anno lo ha meritato tutti gli effetti, cioè ha giocato in maniera esemplare, ha fatto grandi cose e ha dimostrato di essere un campione, ecco dopo tanti tentativi è riuscito nel vincere questo benedetto pallone d'oro che per lui era diventato come un'ossessione che non riusciva a vincere mai insomma, e anche perché con Messi e Ronaldo, soprattutto Messi negli ultimi periodi era veramente difficile vincere. Adesso quindi sta facendo un'intervista, sta un po' raccontando un po' la sua esperienza, anche sta continuando ancora con Real Madrid, sta raccontando diciamo le sue dinamiche di squadra, come si trova con la squadra, da come è partito a come è arrivato, ma io sono molto contento, finalmente ecco sono riuscito a interrompere questo binomio Messi-Ronaldo e finalmente un altro grande campione è riuscito a vincere il pallone d'oro, che sia di buon auspicio per i palloni d'oro futuri, anche perché Messi comincia ad avere ormai una certa età, non può durare per sempre e Ronaldo anche, quindi ormai loro credo che stiano salutando un po' questa cosa del pallone d'oro. Comunque pallone d'oro 2022 a Karim Benzema meritato, un saluto a tutti, ciao ragazzi, ciao!